Ciao a tutti ragazzi, io sono Joke05 e benvenuti in questo nuovo video di Fortnite Oggi in questo video siamo in compagnia di Miss Fantastic Allora ragazzi faremo due e speriamo di combinar qualcosa, speriamo una bella vittoria succulente Lasciate 5 mi piace e faremo un prossimo video insieme a Miss Fantastic E iscrivetevi soprattutto perché dobbiamo arrivare a 100 iscritti Ok ragazzi ci stiamo Allora questo qua sarà un video dove noi atterreremo soltanto a Boschetto Bisunto e palme acquatiche Io direi di andare a Boschetto dato che già ci stiamo Sì Non mi riempire per entrare Fammi atterrare però Andiamo a carica Ecco ma ora ci ammazziamo le botte Non carica la mappa comunque Non carica la mappa guarda Carica Ditemi se c'è libero questo bug Adesso in questo momento se giocate Ragazzi si è buggato tutto guarda Non mi carica Tu mi vedi Ok mi è caricato adesso Adrap No vabbè io sono l'unico sticato che No vabbè C'è regà ma vi rendete conto regà C'è ma vi rendete conto Guarda io te ne vedo senza piccone Metti il piccolino un attimo Io te vedo con le mani aperte senza E pensavo lo piave in piedi Ecco si è acchiata trappola Oh tenta trappola Tranquillo Non ho messa la sua Poi c'è stata pure il baletto nel negozio Codice creatore KPR Martex Dato che io non ho un codice creatore Cioè sul sito delle big game c'è scritto Di avere 1000 iscritti Per avere il proprio codice creatore Sono da mo che l'ho fatto Infatti dai regà iscrivetevi Tu che guardi questo video Tu metti mi piace E non mi arriva la mappa ancora Guarda regà Guardate No ti giuro che questo video lo devo caricare adesso E ti devo far vedere come so abbagato io So fermo io So immobile Tutti i genitori li vedo così Guarda Devo andare alla prigione poi dopo eh Eh deve chiedere la mappa almeno No no ma caricato Però mi carica la skin Ma perché mi dà sempre questo skin qua Un'arma qualcosa Accorciati per l'oggetto Una lampada Una lampada Una lampada Una lampada Che ci faccio con la lampada Perché vedo una lampada Che ci faccio con la raga E non rock No vabbè Che baggato No 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 Ti giuro che ti faccio vedere Questa scena Uh buono 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 Ok Ho avviato No 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 Io ho trovato Ma qua c'è uno camper Chi l'ha dovuto uno Questo si stava Cioè stava qua Stava Giura stavata qua E Eh non così Buono questo Veloce lo ce lo Mizzera ma col tempo Deve cambiare Dal pompa alla metraietta Bravo Trofate grandissimo Oggi c'era Sì Oggi sarà un video Funny moment Perché non stiamo A combina niente Infatti adesso andiamo In posti seri Dove si può buildare Dove si può Non si balla Dove non si sono In oggetti Andiamo Sarei dove O andiamo A un bel lander Le tali O andiamo Per il picco volare Raga guardate Non mi carica Cioè è proprio Buggato Cioè Sì ma non mi carica Raga guardate No questo è un video Direto all'epic games No mi risolvete Sto bug E per scusate Mi fate il codice creatore Anche se c'ho 82 iscritti Che ne dici Penso che si L'ho vista Si ha buggato Raga perché guardate Ce l'ho lasciato Addosso Cioè Si ha buggato Lì così Ti giuro Questo è un video Direto all'epic games Questo sarà un video Funny moment Se in questa partita Non fa molto C'è stato C'è stato uno C'è stato uno Che Ah tu hai il lato Bravo Un volo Mi ha preso Che è che sta Qua sotto da me Ha il popolo Uguale al mio Ha ballato Guarda guarda Non posso i tallo C'è me di che i giocatori Non si possono Eh si dai Permetti di ballare Si Ah ma è un altro Amma Sta qua Sta qua Sta qua Sta qua Oh No 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 madriale Non posso fare niente Sessantacinque Non lo posso fare Aspetta C'è Aspetta C'è l'altro C'è la potenzione Da dietro Varie altre due partite Perché sono tutti corti Fanno altre due partite Va Anche se per un attimo C'è avuto 100 Per un attimo 170 di ping Ma c'è 60 Sì lo so Come se sto Qua 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 Non carica neanche Nel albero Niente Guarda Dove vado io a prendere armi Dove vado Ma se spacco tipo l'albero Non me lo fa funzionare L'albero Ok mi ha caricato la skin Ma ti ha caricato la mappa C'è questa gente che spara Beh Non carica la mappa Non carica Dove vado io Noi mi do butta giù Io da terza Per attimo ho visto Dentro Ecco Io sto sotto Sto sotto io Ok ma carica da adesso Ma carica da regà Uh macchietta La macchietta da me Vieni qua sotto La macchietta viola Con il trappone elettrica Mitra di tagliola Con crescere lo slurp Che ero buono Non andrà Non puoi difendere Ma tu sei a sopra Aspetta Non c'è sto Cerco di salire Velocemente Non so come Bellissimo Che da arrivare Non spregare Ci ho calmi Io ce Da me uno La mano Mamma mia Mi serve il medit Io ce l'ho le band Vabbè no Te tu scendini Siete te uno Ben di timbolo Tutto ce l'ho Che culo Stato se morivo io Che c'è sta Che c'è il tac bianco E davvero questo carico va Colpi Un pompa Che c'è La 5 precisi Maia Esatto Ti va solo Va Colpi Piccoli 101 101 Sono la gente Ok si c'è uno La Dalta plano Gigantesco Dalta plano Se la Stetta Allo Sono Andato Vicino Che brutto Ragazzi Mentre Stai Fight E se Entra Boschetto Balli Vabbè C'è io Prefisco che non tornano Le città Perché se Poi hanno Ste caratteristiche Ste Sti Malus Non mi piace Arrivare Eccolo là Comunque Che stava sparato Intanto Se io entro Non dovrei ballare Vabbè Qua 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 Boom Lo finito Anzi Ci Come Esci Esci Vole faccio Volevo mele Ingano Le persone Metto La scala Qua E metto Tipo Uno che Senta Camperà Qua Dentro Qua Entra E Piedra Poi Pieno Guarda Non c'è Il metallo Però Mi serve Un ferro Ciò Allora No Eh io Non posso Usci Perché Sto Balla Eh Mi sono Fantastic Colpi Piccoli Poi 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 Se Gio Se Chilo Uno Di Trappola Mi Rido Io Io Fa Qua Ho 70 De Shield 60 Oh Mese Blocco Stavo Mette Jessica No Vabbè Eccoli Non Mi Finiste La Poi Dare Mi Stai Ragazzi Abbiamo Figlio Di Giocare Se Mi Spentassi Che Fa Il Miracolo Puoi Fare Il Miracolo Forza E A me Mi Eliminano Sì Questi C'è Ogni Tra Ti Lasciamo Sto 125 162 Così C'è Tre Kill Quello Una Poi Guarda Guarda Questi Che Pure Eslur Per Tre Shieldoni Non C'è Niente Meravido Mi Sei Disconnesso E Quindi Per Forza Caricare Mi Se Disconnesso Immobile Anzi Quando Ho Messo Il Connettore A Joystick Mi Stava Una Spara E Son Morto C'è Fatima Sfortuna Niente Raga Lasciate 5 Mi Piace E Faremo Un Prossimo Video Con Miss Fantastic E Iscrivetevi Che Siamo Arrivati Quasi A 100 Iscritti Raga 18 Persone Si Devono Iscrivere Ancora Purtroppo Quindi Iscrivetevi E Faremo Un Prossimo Video Con Miss Fantastic Sfortuna Sf票 Sf Grazie a tutti.